quinto potere sempre come non viene sai cosa vuol dire tino ci siamo ci siamo è la vigilia ormai è la vigilia e la vigilia manca pochissimo tu non hai capito niente che è successo o vengo o mi fai venire che sennò amare per te ma dove alla festa in tutto e per tutto perché il primo anno di quinto il bambino sta crescendo tu purtroppo dove devo andare respiro ne verrà più è meglio che ti conviene che io venga che sennò te l'ho detto e te lo ripeto cioè se non vieni che succede quella 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 non la trovi più l'asfalto è vero l'asfalto e pure gli altri la stessa cosa invitiamo quindi tutti quanti a venire alla festa è quello che vuoi però invitate venite tutti quanti alla festa di quinto perché il giochetto l'abbiamo già capito sono più ragionevole di te forse non è chiaro che c'entra no devo venire se no quella dove stai tu non te la fai schiacchia in tutti tutta base non mi chiedo ma tu vieni ospite o paghi il biglietto no ospite perché io questi cash voglio il cash questo cash voglio il cash ma non era l'ello cash era l'ello cash ma evidentemente cash abbiamo finito l'ello cash senza cash io sto negativo sempre l'ello cash senza cash vabbè aspetta ti do i soldi per comprare il biglietto non costa assai il biglietto non costa assai pre vendita e tutto costa poco però c'hai vitone c'hai maria chiara che suona dal vivo bravissima c'hai mi spia che ci fa ballare ma tu non hai capito li devo conoscere ad uno ad uno forse non è chiaro e non che tu mi dirai fai brutta perché io non li sai perché ma i selfie li farai tu non ti si preoccupa ti concederai ai selfie tu non ti si preoccupa lello è importante sto fare tu non ti si preoccupa i selfie li farai tu non ti si preoccupa bello che non mi farai tu a me non a te perché io quando parlo ti pungerò pic indolo ti pungerò pic indolo non che già devi coniugare con le ma hai già fatto il discorso dal palco che dirai tu non ti si preoccupa che io non capisco come ne chiedete avete battuto non ti farai parlare e non ti farai parlare non mi farà parlare Tina a furia di fare battuto devi dire allo conte che tu vai a braccio no perché lui l'unica cosa che fa quando va a piazza muro di fronte ce l'ha accanto ci sarà pure quella consumazione se uno vuole va al bar e beve quello che vuole scusami è una festa uno deve andare là però responsabilmente mi raccomando fate la macchina però lui sono due lettere aspetta due no i numeri sono due v f no venite alla festa no sono due numeri questo è il link dove acquistare il biglietto non è venbra io vengo sempre a maggio tu vieni omaggio sei ospite d'onore ci mancherebbe altro devo venire o vengo o vengo proprio o vengo o vengo proprio non è una promessa ragazzi è proprio una minaccia è una minaccia sabato 17 all'uncay cinema dalle 20 e 30 ci divertiamo e festeggiamo un anno di quinto potere l'unica cosa che ti dirò sarò tu che l'occhio su di me non lo ce lo metterai di più non quello di vito nome però io posso fare un'altra cosa che cosa fa mi porterò anche questo se voglio e non sai chi è un giaccone la giacca no è molto più pericoloso è molto più pesante quindi vieni accompagnato no con io con tre e so come mi devo muovere diversamente pure ragazzi se volete sapere come va a finire ci vediamo sabato 17 dalle 20 e 30 all'uncay cinema io sto cominciando a tremare e voi tanti auguri va bene perché devo venire è una sorpresa che mi farò avete capito buon divertimento grazie a tutti